La cultura muove le montagne, con questo slogan Ascoli Piceno sostiene la propria candidatura a Capitale della Cultura 2024, con il supporto dei comuni della provincia. Un progetto metro montano, quindi dal mare alle aree interne, una visione di città lineare in grado di promuovere complessivamente lo sviluppo competitivo della cultura. Non un progetto sulla città, ma un territorio come progetto, basato sull'interazione tra Ascoli e le aree interne, anche grazie alle tecnologie. Attraverso il modello di rilancio delle aree interne di tutto l'Appennio Centrale abbiamo proposto un interessante progetto culturale per trasformare i nostri teatri, le nostre biblioteche, i nostri musei nelle fabbriche del futuro. La storia di Ascoli risale fino al IX secolo a.C., all'età del ferro, dalla fondazione dei Piceni, seguita dalla conquista romana, fino allo splendore della città dalle cento torri. Nel periodo medievale ha avuto una storia importante perché città ricca, grazie alla produzione dei tessuti, e le torri ascolane sono sicuramente testimonianza di questa ricchezza. È bello respirare l'aria del suo salotto buono, Piazza del Popolo, con il Palazzo dei Capitani, la Chiesa di San Francesco, gli edifici rinascimentali e lo storico caffè frequentato dai VIP del secolo scorso, perché da sempre la città punta al cielo.